Questo video è offerto da Da qualche settimana anche ad Augusta i commercianti lamentano costi esorbitanti delle bollette di luce e gas, costi insostenibili che mettono a rischio l'attività stessa e i propri dipendenti. Ci sono numeri molto alti perché noi siamo proiettati intorno ai 12.000 euro ogni due mesi contro i 4.000 euro che pagavamo normalmente ogni due mesi. Quali sono i rischi che si corrono? Il rischio è la chiusura perché non ci sono altri rimedi, non si possono aumentare i prezzi con questi numeri sproporzionati che ci sono oggi e quindi sarà un periodo autunnale, invernale molto particolare. Non siamo riusciti nemmeno a ricollegarci con i ristoratori per fare un'unione perché il problema toccherà tutti quanti, anche i cittadini normali, sarà un inverno davvero grave per tutti quanti. Quanti dipendenti ci sono in questo esercizio? Qua 11 persone, ci sono 11 persone che vengono a lavorare ma noi siamo proiettati dalla bolletta che mi arriverà il 13 ottobre intorno ai 12-13.000 euro di bolletta. Si può pensare anche di aumentare il caffè ad esempio anche a 2-3 euro? I cittadini servono per ricoprire la materia prima degli aumenti che stanno regando, questi aumenti di gas e luce e quelli vengono ricoperti ma alla corrente è impossibile raggiungere questo costo incredibile, eccessivo. Le direttive governative suggeriscono di usare l'energia elettrica con parsimonia, si può adottare questo sistema? Si può risparmiare un 35%, secondo me si può risparmiare, specialmente che entriamo in un periodo autunnale, invernale, si può staccare qualcosa, qualche frigorifero o utilizzare apparecchiature che possibilmente d'estate vengono usate e non ci saranno. È anche importante perché ora c'è anche un decreto aiuto bis che è uscito il 9 agosto ed è da leggere bene perché ci sono molti aiuti. Come state vivendo questa situazione? Diciamo che aggrava ancora di più la situazione già critica che riguardava noi commercianti tutti, non solo la ristorazione ma anche tutti gli altri perché comunque già la tassazione in Italia era altissima e lo sappiamo tutti. La crisi c'era da tempo, il Covid ci ha dato una bella mazzata, ora il caro energia che non è solo il caro energia ma è il caro di tutti i prezzi perché chiunque di voi è andato al suo mercato, chiunque di voi ha fatto la spesa, chiunque di voi sa che è aumentata la farina, il sale, lo zucchero, tutto. Ad aggravare questa situazione arrivano anche delle bollette che sono insostenibili per un'attività, semplicemente è insostenibile ormai la situazione per noi commercianti. Se si vuole fare una comparazione con le bollette dello scorso anno di quanto sono aumentate? Ma si parla quasi del doppio, ormai è quasi il doppio che è arrivata la luce, abbiamo delle bollette che sono il doppio di quelle degli anni passati. Già gli anni passati avevamo dei problemi, oltre alle bollette della luce il problema più grande è che sta aumentando tutto, quindi non solo la luce ma noi abbiamo anche le materie prime, il caffè, lo zucchero, il sale, tutto. Quindi è ovvio che molti di noi stanno cercando anche di adeguare dei prezzi ma come lo fanno anche i supermercati. Addirittura in questi giorni ho visto supermercati con le luci mezza spende e mezza accese perché la luce e il caro energia ha colpito anche loro, le grandi catene. Quindi immaginate noi piccoli commercianti come stiamo vivendo questo ringaro della luce. In questo caso il bar si può permettere di mantenere qualche elettrodomestico spento? Si deve spegnere il più possibile tutti gli elettrodomestici che si possono, veramente si è arrivati a una situazione insostenibile. Ormai si parla veramente di cambiare il tipo di produzione, cambiare il tipo di orari, cambiare anche la qualità a volte purtroppo di alcune cose, del servizio magari a tavola dei ragazzi, perché non si può più sostenere queste spese. Tutto questo a rischio di che cosa? A rischio di chiusura, perché sono sicuro che tra sei mesi, andando avanti così per altri mesi sicuramente qualche attività andrà a chiudere, ma non una o due, si andrà verso una grande crisi. Ma il caro Bollette investe tutto il territorio di Augusta, siamo a Brucoli nel suo borgo marinaro a poche distanze da Augusta, vediamo un po' di capire cosa sta succedendo in questo esercizio commerciale. Quando sono arrivate queste bollette qual è stata la prima reazione? All'inizio ci sembrava che era uno scherzo, sinceramente, poi purtroppo si è rivelata una triste realtà perché siamo andati a vedere nel dettaglio ed era sicuramente un qualcosa di spropositato. Sì, ok, qui siamo al chiuso, c'è stato caldo quest'estate, teniamo i condizionatori accesi, però anche gli altri anni è stato così e sicuramente dopo un periodo di pandemia non ci aspettavamo un'altra pandemia. Rispetto all'anno scorso che differenza avete trovato? Ma siamo oltre il 300% in più, quindi soprattutto nella parte energia elettrica, aumento incredibile, basta vedere qui il ristorante al castello 18.858 euro solo per il mese di luglio e ancora aspettiamo la sorpresa del mese di agosto, non osiamo pensare quello che sarà. Quali potrebbero essere gli aiuti che potrebbero arrivare e che sarebbero veramente una boccata di ossigeno per far fronte a questa emergenza, se così possiamo chiamarlo? Ma sicuramente non potrà essere il click day da 200 euro che ho sentito dire dal nostro governo, qui ci vuole un intervento radicale alla fonte suppongo oppure un intervento a pioggia su tutte le attività perché è un problema che riguarda tutti, qui non c'è come magari per la pandemia chi aveva continuato a lavorare e chi non aveva continuato a lavorare e qui tutti siamo colpiti allo stesso modo perché tutti utilizziamo l'energia elettrica e tutti se non la paghiamo siamo costretti a chiudere perché questi signori non hanno un minimo di tolleranza questi se non paghi alla scadenza dopo un tot di giorni ti riducono la potenza fino ad arrivare alla chiusura totalmente dell'energia, un po' come succede la Russia con il gas, uguale, non cambia niente da questo punto di vista. Ci potrebbe essere un rischio anche sul mantenimento dei dipendenti a questo punto? È ovvio perché alla lunga saremmo costretti a trarre delle conclusioni che potrebbero anche prevedere la riduzione dell'attività e di conseguenza anche del personale sentivo anche delle interviste ad imprenditori di ben più ampia portata a livello nazionale che parlavano proprio di un rischio default un po' di tutto il settore economico a livello nazionale appunto perché è non solo nazionale a questo punto perché credo che sia un problema che riguardi un po' tutta Europa perché mantenere questi standard, mantenere gli standard di occupazione, mantenere gli standard di lavoro ci sono due rischi che riguardano anche tutto il settore economico o si va a chiudere oppure devi alzare i prezzi, alzare i prezzi vai a toccare il sociale, vai a toccare tutti i dipendenti che magari venivano a mangiare al ristorante, a passarsi una serata e che ovviamente valuteranno di non venirci più perché i stipendi restano invariati e questo aumenterà tutto ma gli stipendi resteranno invariati e questo è il gioco quindi se non si interviene anche sugli stipendi non facciamo nulla Per quanto tempo ancora potete resistere a questa situazione? Ma adesso diciamo che la situazione è un po' un termine un po' forte dopata dal fatto che siamo in estate quindi comunque ci sono anche gli incassi Il problema vero e proprio si presenterà in autunno e in inverno quando ovviamente attività prettamente estive subiranno il naturale contraccolpo della riduzione degli incassi ma per quello che vedo anche in attività che in questo momento noi abbiamo su Augusta che durante il periodo estivo sono chiuse comunque c'è un minimo sotto il quale non si va per il pagamento quindi comunque ci saranno sempre delle soglie abbastanza alte da dover sostenere e nel periodo invernale sarà veramente dura Quindi nel periodo autunnale e il prossimo inverno si spera che le cose possono cambiare in meglio? Ma soltanto con un intervento da parte del governo perché sul fronte europeo e mondiale mi sembra che non ci siano grandi prospettive rose da questo punto di vista perché anzi sembra che la situazione stia andando a peggiorare per cui ci si aspetta soltanto un aiuto da parte del futuro governo che verrà sperando che riescano a immettere nel settore economico della liquidità che possa in un certo modo sopperire a questi numeri che sono davvero scandalosi Sindaco, bollette alle stelle della luce, anche il comune credo sia un po' alle prese con questo fenomeno nazionale Cosa ne risente il tessuto cittadino e gli esercizi commerciali? Cosa ne pensa in merito? Ne risentiamo tutti, la situazione è veramente difficile e delicata e quindi mi auguro che il governo nazionale intervenga perché al di là delle nostre abitazioni a casa, dei nostri ristoranti, dei nostri commercianti, delle nostre imprese che stanno subendo veramente un salasso importante c'è anche il tema dell'illuminazione pubblica e quindi delle strutture comunali abbiamo fatto delle prime verifiche e i dati sono veramente preoccupanti e proprio oggi abbiamo avuto una riunione sul tavolo ci sono delle misure che potremmo prendere anche drastiche quali la riduzione dell'utilizzo dell'illuminazione pubblica se non addirittura lo spegnimento totale Bisogna intervenire rapidamente perché altrimenti dovremo prendere delle scelte importanti che possono incidere anche sulla sicurezza dei cittadini Lei in questo periodo ha ricevuto della mentene anche da parte dei cittadini che magari gli hanno prospettato questo serio problema che non riguarda solo gli esercizi commerciali ma anche intere famiglie Sì ma il problema riguarda chiunque voglio dire l'impresa, l'esercizio commerciale, le famiglie hanno ricevuto tantissime segnalazioni da cittadini, da imprese, da commercianti perché è chiaro che si parla di un prezzo più che raddoppiato ed è difficile portare avanti sia una famiglia che un'impresa perché il denaro riservato al pagamento del costo dell'energia viene tolto alla sopravvivenza e alle spese normali della famiglia quindi qui non bisogna né aspettare il risultato delle elezioni ormai prossime né aspettare direttive o altre qui bisogna intervenire rapidamente a tutela dei cittadini e dei servizi che vengono espletati a favore dei cittadini Un sentire comune per gran parte degli esercizi commerciali per far fronte al fenomeno del caro bollette di luce e gas La stagione estiva è appena conclusa, si spera che con l'inizio del prossimo inverno i locali possono trarre un sospiro di sollievo per le proprie tasche Un sentire comune per le proprie tasche